Ciao, sono Ivano Valmori, fondatore di ImageLine e ideatore del servizio Quaderno di Campagna. Durante le varie fiere mi viene sempre chiesto perché devo comprare il Quaderno di Campagna quando i dati che posso registrare, che devo registrarli, posso mettere su un foglio Excel, su un documento Word, su un calendario. Beh, la risposta è abbastanza chiara, perché il Quaderno di Campagna ti aiuta ad avere la certezza di compilare il registro nel migliore dei modi. Ti aiuta a scegliere anche in modo preventivo quali sono i prodotti che puoi utilizzare in Campagna. In pratica ti rende tutto molto più semplice, molto più rapido, tutte le registrazioni sono molto più sicure. Vediamo in particolare come ti aiuta nei trattamenti. Andiamo quindi a registrare un trattamento direttamente sul Quaderno di Campagna. Supponiamo di dover registrare un trattamento su vite contro la tignoletta. Qui andiamo nella sezione operazioni trattamenti fitosanitari e inseriamo la nostra vite. Il sistema sa già che sono 3 ettari, perché li abbiamo precedentemente inseriti, e inseriamo la data in cui abbiamo eseguito il trattamento. Già in questa fase il sistema ci aiuta molto a trovare i prodotti, perché può fornirci solo i prodotti a magazzino, solo i prodotti a magazzino che sono registrati su quella cultura, eventualmente i prodotti che sono ammessi su un disciplinario di produzione o autorizzati per l'agricoltura biologica. Noi per praticità gli chiediamo di individuare i prodotti a magazzino che sono autorizzati sulla cultura. Nel momento in cui noi premiamo cerca, il sistema me li va ad individuare e in questo momento inizia ad avvalersi di tutte le competenze che sono proprie di fitoges. Qui abbiamo tutti i prodotti che questa azienda agricola ha a magazzino e nel momento in cui noi prendiamo un prodotto lo possiamo aggiungere al trattamento. Già qui abbiamo la certezza di aggiungere prodotti che sono registrati sulla cultura e che abbiamo disponibili nel nostro magazzino. Se apriamo ad esempio lo storico ci dà la giacenza attuale di questo prodotto. A questo punto dobbiamo specificare l'avversità. Qui mi dice quali sono le avversità riportate in etichetta, prendo la tignoletta della vite e direttamente il sistema mi va ad individuare la nota. Quindi dei 2000 prodotti disponibili ho trovato quello che va bene contro la tignoletta e nell'ambito della sua etichetta individuo la nota di impiego. E tra le altre cose mi dice qual è la dose che devo utilizzare, che è pari a 0,25-06 litri per ettaro. Quindi metto litri e dico che utilizzo ad esempio 0,3 litri per ettaro. Il sistema, questa qui è una calcolatrice fantastica, mi permette di andare a capire qual è il quantitativo di prodotto che devo utilizzare. Quindi mi dice quanto ne dovrei o usare da magazzino oppure acquistare. E già qui mi dà delle informazioni. Se tu lo utilizzi in ragione di 0,3 litri per ettaro, te ne servono 0,9 litri che devi andare a sciogliere in ragione di 30 millilitri per ettolitro nel quantitativo di acqua che devi utilizzare. Qui ovviamente è possibile specificare eventuali altre avversità. Nel momento in cui noi gli diciamo di verificare il trattamento, il sistema va a controllare tutte queste cose. Quindi mi verifica che non sia stato superato il numero massimo di trattamenti riportata nell'etichetta del prodotto. Mi controlla che le registrazioni degli agrofarmaci siano corrette. Mi controlla che il prodotto abbia una dose di impiego conforme, quindi io l'abbia utilizzato nella dose giusta. Mi verifica che le sostanze attive siano ammesse dall'eventuale disciplinare di produzione che utilizzo nell'azienda. Mi verifica che il prodotto non fosse revocato. Mi controlla le buffering zone. Mi controlla se la disponibilità a magazzino era coerente con l'utilizzo che ho fatto in campo. Mi controlla addirittura se è stato superato il numero massimo di interventi fatti con la sostanza attiva che ho utilizzato direttamente sulla cultura. Capite che non c'è foglio Excel, non c'è altro applicativo, non c'è calendario fatto a mano che permetta di avere queste informazioni. Per questa ragione ritengo che il quaderno di campagna sia veramente utile per gli agricoltori e il successo che sta avendo nell'ambito di agricoltori, tecnici, consulenti e professionisti che utilizzano questo sistema ce ne dà ragione. Noi contiamo di averti tra i nostri utilizzatori. Ti ricordo che il sistema è disponibile sia nella versione monoaziendale per le aziende agricole, sia in versione multiaziendale. In questo caso è il consulente che ha a disposizione la possibilità di entrare in più aziende agricole. Di seguito trovi maggiore informazione per procedere o all'acquisto del prodotto o per richiedere ai nostri tecnici maggiori informazioni e una valutazione eventualmente del sistema in versione multiaziendale. Sono convinto che nei prossimi anni lavoreremo assieme perché uno strumento come quaderno di campagna non può mancare neanche nella tua attività. Ciao, buon lavoro!